Non si ferma la scia di furti e i danni di persone anziane, con questa volta vittima una 74enne di campo formido colpita dal raggiro del finto tecnico, una delle tante modalità di applicazione di questi reati. Nella mattinata del 9 maggio la signora si è vista presentare alla porta di casa un finto tecnico dell'acquedotto che ha simulato una perdita di acqua, convincendo la malcapitata a farlo entrare in casa per poter così intervenire ad urgenza, limitando gli eventuali danni per l'allagamento. Con questa scusa il ladro ha potuto fare il giro della casa stessa e notare dove fossero gli oggetti preziosi e il denaro, che è riuscito a prelevare in un momento di distrazione della 74enne. Con movimenti lesti il malvivente ha portato via 4.500 euro in contanti e gioielli in oro con valore ancora da stimare. La donna si è poi presto accorta di essere stata raggirata, anche se già troppo tardi con il finto tecnico che si era già dileguato. La donna allora si è rivolta immediatamente ai carabinieri di Codroipo che stanno indagando sull'episodio dopo che l'anziana ha sporto denuncia per l'accaduto ennesimo colpo che deve fare innalzare il livello d'attenzione nei confronti di tutte le persone potenziali vittime di questi pericolosi raggiri.